A una settimana da Natale abbiamo voluto fare questa presenza appunto qui nella piazza dove abbiamo la nostra sede e proponendo, promuovendo appunto le coperte fatte da questo gruppo Mani e Cuore e i calendari che ha fatto la Sraperline con sua figlia e nello stesso tempo ovviamente raccogliamo anche dei fondi che sono sempre utili per il Cacile, per le sue innumerevoli donazioni. Il titolo del calendario è Nati con la coda e appunto parla degli animali domestici che per tante persone sono veramente di compagnia. Il loro valore è dovuto al fatto che sono delle mani di tante donne e senza dimenticare per me una cosa eccezionale la casa Pia, gli anziani che hanno lavorato, i bambini della scuola che hanno fatto tante bustine colorate dove mettere le coperte. Ecco, è il coinvolgimento di tanta gente il valore grande di questa cosa per il fine del calcit che non lo dimentichiamo. Ecco, tutto quello che noi facciamo ormai è destinato al calcit ma in particolare alla senologia.